Una progettazione importante e soprattutto un istruttore importante. In questa mattinata noi presenteremo i lavori di 48 mesi, quindi 4 anni di istruttoria positiva e favorevole attorno a un grande progetto che è stato ostacolato in ogni modo. Ostacolato per due volte con i ricorsi all'ANAC, con esposti vari, raccontando tante falsità sia sui numeri del piano economico e finanziario del progetto sia sullo stesso progetto che nel corso dei 48 mesi si è notevolmente modificato. Noi su Chieti abbiamo riaperto la struttura del vecchio ospedale, ha aperto il cardiochirurgico e oggi mettiamo a gara, a gara europea, un ospedale nuovo di 498 posti letto che ovviamente risolve una volta per tutte le criticità che il Tribunale aveva sollevato con le sue perizie e evidentemente allo stesso tempo mette a gara un'operazione che costa molto meno della prima bozza presentata. È un'altra grande falsità che non è stata mai volutamente raccontata da chi si è opposto e ha ostacolato in ogni modo questa grande realizzazione perché i canoni complessivi passano da 61 milioni di euro della prima proposta a 21 milioni di euro con un abbattimento di due terzi dei costi e con un ospedale che rispetto alla prima proposta è stravolto in senso positivo perché hanno lavorato attorno a questa progettazione più volte rivista tanti primari, direttamente gli operatori, evidentemente anche la parte della ASLE è il grande tema di come vengono utilizzate le risorse è davvero vergognoso che si sia provato e si sia tentato nei giorni scorsi a porre come equivalenza le risorse purtroppo che noi paghiamo per le cartolarizzazioni cartolarizzazioni per i debiti del quinquennio 2000-2005 con risorse che invece mettiamo a garanzia che probabilmente non spenderemo perché i 21 milioni di euro vanno persino a gara quindi avranno e conosceranno un ulteriore abbattimento a garanzia per gli investimenti per i pazienti per i cittadini, per la comunità, per gli operatori, per la nostra regione la sede sarà chiaramente a Colle dell'Ara e lì ci sarà insieme alla palazzina M cioè all'attuale cardiochirurgico dove oggi c'è il parcheggio sottostante la parte dell'obitorio dell'ospedale e la realizzazione del nuovo e allo stesso tempo laddove ci saranno le demolizioni di quello che oggi staticamente non regge ci saranno nuovi parcheggi e nuovi servizi per il nuovo ospedale l'iniziale progetto erano 70 mesi quindi sono 5,5 anni